I soldi per fare il nuovo ospedale non ci sono. Il comitato Salviamo Ospedale di Piacenza alza la voce in merito alle recenti cifre riferite dalla regione Emilia-Romagna che ha dato notizia di un investimento di 296 milioni per costruire l'ospedale di Piacenza. Mancano però 160 milioni che dovranno essere reperiti attraverso un partenariato pubblico-privato e su questo punto il comitato è molto scettico, oltre che contrario, e orientato verso un progetto diverso di ampliamento dell'ospedale già esistente. Non ci sono i soldi, questo è un punto fermo. Siamo passati da 200 a 300 e passa milioni e ne mancano 160, più della metà. Le sigle non vogliono dire niente. Quando la Giunta fa una delibera e dice ma ne troviamo 160 milioni con il PPP, PPP, partenariato pubblico-privato, è una sigla, ma tu devi fare una gara, devi trovare un'azienda che costruisce l'ospedale e 160 milioni non gli vengono versati. Noi diciamo basta inganni. Ci hanno detto che non c'erano i parcheggi, non è vero. Ci hanno detto che se non facciamo l'ospedale nuovo il finanziamento non c'era, non è vero. Ci hanno detto che non c'era più lo spazio per ampliarlo, non è vero. E oggi noi diciamo con i pochi soldi che sono rimasti, noi possiamo raddoppiare l'attuale policchirurgico senza intervenire sull'attuale edificio. Noi facciamo una cucitura e con poco più di 100 milioni raddoppiamo gli spazi.